Perché, per immagine, chiacchierando così eravamo in attesa di cantare al teatro Valle Occupato, eravamo in camerino, avevamo lì un quarto d'ora, però prima di questo quarto d'ora ci hanno fatto aspettare due ore in camerino e è successo, ci siamo ritrovate fra femmine, tutte donne, sedute a chiacchierare, come sappiamo fare noi che facciamo casa ovunque, e chiacchieravamo, tu che trucco usi poi con lei, tutte le curiosità, no? Perché questa cosa pure di dire quanti sari c'hai, di che colore sono, che usi per truccarti, eccetera, una di noi, nella battistrice Deborah, dove stai? Ha detto, ma perché non facciamo una cosa in inglese? Eh, dico, un'idea, magari lei diceva, una vecchia canzone, come quelle che cantavamo quando facevamo, tipo Michelle Overcome, e lei cominciava a cantarla in Bangla, ho detto, ma non è possibile, ha detto subito, questa è fatta, questa è nostra, e l'abbiamo, diciamo, montata, così. Sì, cambiamo. 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 , cambiamo.